Come cantante, secondo me, avrei potuto fare carriera, ma poi mi si è aperta. Potresti essere liberato a questo punto, potremmo... Ecco, esatto, infatti siamo vestiti uguali. C'è una finità, potremmo scoprire un mistero questo audio. Ho liberato qui davanti e scrive di cucina. Un ospite e due gin tonic. Questa è Gintoneria. Immergiamoci. Buonasera amici e benvenuti a un nuovo episodio di Gintoneria Podcast. Ultimo episodio del 2023. Oggi avrò il piacere di bere un gin tonic con Valerio Massimo Visintin. Benvenuto. Grazie, saluto, io non posso bere. A fine puntata, in privato, in qualche modo, in qualche nicchia di questa casa. Un bagno. Esatto, ti lo sconderai e assaggerai nel batonico. Che è un po' un aspetto peculiare del podcast. Grazie mille per essere qui. È un grande piacere. Grazie a voi di avermi invitato. È un piacere, l'abbiamo anche un po' cercato. Io ho un file sul computer dall'inizio del podcast. E questa era una puntata che avevo segnato da tempo. Valerio Massimo Visintin, lo giuro, era un nome che c'era da prima che il podcast esistesse. Avevo curiosità di conoscerti, di fare due chiacchiere. Oggi un po' si esaudisce questo passaggio. L'ultimo è del 2023, peraltro. Quindi augureremo anche buon Natale ai nostri ascoltatori. Ah sì, buon Natale, buon anno. Buon anno, andremo avanti. È tempo, però è tempo di goderci un po' di passaggi. Noi abbiamo un po' un rituale in questa stagione, Valerio, nell'impostare le puntate. E partiamo sempre dalla stanza dell'ospite, nella sua stanza dove è cresciuto, dove è nato. Oggi voglio fare un passaggio leggermente diverso. Deviare subito su un aspetto che in qualche modo ti connota con lo del tuo lavoro. Da critico enogastronomico. In che momento della tua vita il cibo è subentrato come aspetto di interesse? Nella tua casa da ragazzo, da bambino, eri già attento al cibo, credi sia un po' innata l'idea di osservare i sapori, di rilevare il gusto. Quanto spesso andavi a cena fuori? Banalmente che attenzione prestavi già da ragazzo al cibo anche come cultura familiare? Io ho origini o sangue di varie città d'Italia, Sicilia, Bologna, Venezia e solo per ultima Milano. Quindi partivo già dalla regione maggiormente vocate alla cultura del cibo. In più i miei genitori erano due puloni, cioè gente che usciva a cena praticamente tutte le sere. Ogni tanto portavano fuori anche noi e i figli e quindi per noi il ristorante era una parte rilevante della nostra infanzia. Uscire a cena non era un'occasione speciale, era un'occasione quotidiana per i miei genitori e piuttosto frequente anche per noi. E quindi credo che sia nato lì l'interesse per il cibo, anche se poi io sono arrivato professionalmente a questo settore per puro caso, perché le vie del giornalismo sono infinite ma sono tutte casuali. Cosa volevi fare da ragazzo? No, io volevo fare l'attore e il cantante. Allora, come attore ero veramente un cane e poi mi dimenticavo tutte le battute, un disastro. E come cantante secondo me avrei potuto fare carriera ma poi mi si è apprezzato. Potresti essere liberato a questo punto, potremmo… Ecco esatto, infatti siamo vestiti uguali. C'è una affinità, potremmo scoprire un mistero quest'oggio. Ho liberato qui davanti e scrive di cucina. Quindi in qualche modo l'abitudine ad andare a cena fuori c'è da sempre, per ragioni familiari. L'abitudine ad osservare, a cogliere nel cibo dei particolari c'era già da ragazzo, era un po' reluttante invece l'idea di vivevi il pasto come un normale momento di convivialità in famiglia o neanche te ne curavi. No, no, era un passaggio fondamentale. I miei genitori mi spronavano a assaggiare tutto, anche le cose che in prima battuta avrei respinto e a capire il gusto. C'era proprio questa passione da parte loro che poi ovviamente sfociava in un spirito conviviale perché uno va al ristorante non per fare un esame ma per passare una bella serata. Per godere in qualche modo del contesto. I tuoi genitori lavoravano come critici o erano appassionati di cucina, del mangiare bene? Appassionati e mio padre ogni tanto, raramente, scriveva di cibo. Quindi mi ha passato lui la professione involontariamente, nel senso che, in cui una parentesi non proprio allegrissima ma la faccio veloce, lui avrebbe dovuto recensire tre ristoranti friulani nei quali ero andato anch'io con i miei genitori e invece è morto di un colpo all'improvviso, proprio all'età che io ho adesso, cioè 59 anni. Io volevo già fare il giornalista e scrivevo già per qualche giornale minore e mia madre disse, ma perché non scrivi tu questo pezzo che tuo padre avrebbe dovuto consegnare a Bar Giornale, che è una rivista che allora vendeva più di un milione di copie. Questo in che anno? 1990, primavera del 90. Io, un po' riluttante, però mi sono fatto convincere a telefonare al direttore Schieppati di quella testata e lui ha detto, ma sì, scrivelo tu, d'accordo. E così ho cominciato a scrivere di ristoranti quell'anno lì, con una tensione terribile, afferrandomi agli appunti che aveva preso mio padre. È stato un po' un lascito anche, un'eredità presa dalla figura paterna. È interessante. Ed è iniziato così con la critica gastronomica, perché non scrivevi, ma scrivevi d'altro. Di altro, qualunque cosa. Ho scritto pezzi sulla lippa, sui cessi, ma nel senso proprio della porcellana da bagno. Poi si potrebbe traslare anche alcuni piatti, però educoriamo, educoriamo. Insomma, ho scritto veramente di tutto, perché la mia passione era... Perse il canto e la recitazione, mi rimaneva solo la scrittura, e quindi appena c'era un'occasione. Poi allora pagavano, cosa che adesso non accade più. Anche le piccole riviste pagavano cifre abbastanza significative. Quindi io facevo su, con tanti articoli, un bel bottino, non proprio uno stipendio, ma quasi. Certo, immagino. Quindi dal 90 ad oggi è iniziata la carriera, dal 90 inizia la carriera da critico gastronomico. Quanti pezzi hai scritto? Siamo nell'ordine dei ristoranti recensiti? Ristoranti recensiti... Saranno, non lo so, non so fare il conto. Mettiamo una media di 200 all'anno per 25 anni. Cosa sarà? Cosa fa? 4.000 e passa. Ecco. Beh, non è banale. Non è banale, più di 4.000. Calcolo il volo, 200 per 25 con qualche telefono. Magari per un supporto matematico che potrebbe esserci utile. Sulla matematica non sono negato. Questo lo monteremo velocemente in modo che sembri che l'abbiamo capito subito, ma in realtà non l'abbiamo colto. Aspettiamo un risponso dalla nostra... 5.000? Ci sono andato troppo lontano. Sì. In fin dei conti. 5.000 ristoranti... Penso, più o meno. Quelli recensiti. Poi naturalmente erano visitati molto di più. Certo. Certo. Mi incuriosisce molto carpire l'iter rispetto alla critica, però credo che in questo momento della puntata dobbiamo una spiegazione rispetto alla tua estetica, ai nostri spettatori che ci stanno guardando, da Spotify, da YouTube, che sia. Tu indossi una maschera, in questo momento un passamontagno, un cappello e degli occhiali. Nelle tue apparizioni in pubblico sei tipicamente vestito in questo modo. Quando è iniziato l'anonimato? C'era già nel 90 o è arrivato dopo? No, allora nel 90 non sentivo l'esigenza perché oltretutto ero sconosciuto, quindi non avevo... Perché il punto di partenza è che bisogna andare in incognito al ristorante se deve recensirlo, perché se no rischi di avere un trattamento di favore, di avere dei regali, non pagare il conto, insomma di non seguire la prassi di un cliente qualsiasi e soprattutto potrebbe accadere anche il contrario. Se c'è un critico in sala, anche il meccanismo del ristorante potrebbe non funzionare perfettamente per l'ansia da prestazione. Allora bisogna andare in incognito. Questo anche come, se vogliamo, come strumento di libertà nei confronti del tuo operato. Certo. Di quello che devi allo spettatore, a chi ti legge. Perché poi noi scriviamo per chi ci legge, per il lettore, non per gli altri chef. Quindi su questa base mi sono sempre comportato andando in incognito, prenotando condomi falsi, senza però il problema della mia immagine. Quello subentra con la conquista di una piccola notorietà, avendo incominciato a scrivere per il Corriere della Sera e soprattutto nasce questa esigenza con la nascita dei social, perché i social sono invece il contrario, cioè tutto immagine, esposizione della propria immagine. Bastava una foto su Facebook per rovinare il nascondino che avevo fatto in tutti gli anni precedenti. Allora, quando sono nati i social, ho incominciato a mascherarmi per la presentazione di un mio libro, mi sono vestito in questo modo. Ti ricordi la prima volta dove, in che ristorante sei stato, in che circostanza ti sei portato? No, ma io nei ristoranti vado a… Eh, perdonami, no, però hai ragione, nei ristoranti vai normalmente. Sì, esatto. In funzione di che circostanza, magari il momento, insomma. Sì, dovevo presentare un libro, adesso non mi ricordo, nel libro e nell'anno preciso, comunque dovevo presentare questo mio libro e ho detto, vabbè, però stavolta se mi presento a viso aperto, mi pare fosse il 2010, una cosa così. Se mi presento a viso aperto, poi magari finisce una foto sui social. Sono tredici anni di anonimato. Diciamo trenta di anonimato e tredici di uomo nero. Perché comunque ha una sua estetica rileva, ma è anonimato. E poi ho messo cose che avevo in casa, tranne questo che poi è un sottocasco, questo l'ho comprato apposta, ma… Per sciare, fondamentalmente. Per sciare. Per sciare. A cosa ti sei ispirato? Perché potevi scegliere mille modi, mille, insomma, capi diversi, un'estetica diversa, hai un riferimento nella massa. No, però poi mi sono reso conto che invece esistono mascheramenti molto simili, persino c'è una delle identità dell'uomo ragno che veste esattamente così, poi nel passato ci sono stati l'uomo ombra, insomma, tantissime, anche, come si chiama, quello con Liam Neeson che ha la faccia… Ah, sì, sì, certo. Sì, non ricordo. Vabbè, comunque, insomma, ci sono tanti… Lo segneremo in puntata in basso, quando lo troveremo. Sì, sì, ma ci sono tanti riferimenti. Sì. Abbiamo anche prima liberato ovviamente di Daft Punk, nella musica, nell'arte, il personaggio anonimo crea forse una lona di mistero che in qualche modo ti avrà dato anche dei benefici in termini di cultura che ti sei portato dietro della persona, del personaggio, poi quello che conta chiaramente è la critica e sono i tuoi… Sì, anche se però mi ha danneggiato perché in realtà questo mi ha… Precluso delle… Precluso molte possibilità, anche per esempio di partecipazioni televisive, perché… perché ormai va di moda sempre la scena di quello che assaggia, io quelle cose non le posso fare perché non ho il buco per la bocca. Te ne sei pentito ad oggi o in fine conti è troppo parte di te questo… No, non mi sono pentito, prima di tutto perché è un modo per tenere fede a una regola deontologica e quindi non me ne posso pentire. Assolutamente. E poi perché è molto divertente in realtà avere questa doppia personalità. E anche forse dal punto di vista della psicanalisi è una soluzione. Sì, sì, è un dottor Jack… Cambia qualcosa rispetto al tuo modo di essere, non mi sembra parlando con te, perché è molto gioviale, cioè rispetto al timore che potrebbe incutere vederti entrare come uomo o nero, in un palazzo sei molto gioviale e cordiale, quindi chiaramente la persona esula dal personaggio della maschera. Mi incuriosisce il cognome che magari non usi più, c'è un cognome creativo che hai usato magari poche volte che ti piace usare in qualche ristorante o magari dove vai a pescare nell'inventario. Quello che uso adesso non lo posso dire perché… Ma quello che uso adesso no, magari un altro che hai usato in passato però hai dismesso. Ma ne ho usati tantissimi, tant'è che a un certo punto mi è capitato più di una sera di non ricordare più con quale diavolo di cognome… Ok, in una gendina con i ristoranti… Ho prenotato cella, no non ci risulta, aspetti, peretti, insomma… Uno particolarmente creativo magari che hai usato una sola volta che non te ne viene in mente perché… No, no, perché comunque devono essere tutti credibili, quindi… Ok, nomi comuni, cognomi comunque… Sì, di solito io sceglievo cognomi di persone che conosco, quindi cognomi veri. Certo, certo. Un po' come lo scherzo telefonico, si fa partire da qualcosa che è un riferimento della propria vita e lo replichi poi per renderlo credibile. Esatto. E torniamo al ristorante, ora che abbiamo contestualizzato la maschera, sei un critico gastronomico, inizi la tua carriera, scrivi dal 1990, esclusivamente per lo più di cucina, e qual è l'iter con cui scegli i ristoranti da provare prima ancora che poi da giudicare? Portami anche poi nel ristorante, nella prassi, ora chiaramente cercherò di condurre un po' le mie curiosità e di traslarle in domande, ma come li scegli, come li approcci, quanto tempo prima e come ci arrivi? Allora, la scelta, la prima scrematura è sulle novità, cioè le novità sono più gradite ovviamente dai lettori e quindi noi, e dico noi perché poi è un lavoro di redazione, ci orientiamo prima di tutto su quello, poi adesso di novità ce n'è uno al minuto. A Milano soprattutto? Sì, appunto, Milano è impressionante. Forse è anche un problema, ma sento che ne parleremo più avanti. E quindi vado a vedere le novità e vado a vedere quelle più rilevanti, quindi se arriva il famosissimo pizzaiolo da Napoli e apre una pizzeria qua, beh, quello è la precedenza. Oppure se uno chef importante apre qua, beh, sicuramente vado a vedere. Perché proprio ti incuriosisce come critico. Sì, mi incuriosisce e penso che sia utile poi per il lettore. Assolutamente. Poi ogni tanto vado a ripescare posti che non sono delle novità, ma che è bene segnalare, perché sennò saremo uguali alla massa degli altri comunicatori che si precipitano solo sulle cose appena aperte. Quindi mi capita di ripescare dei ristoranti nati da un po' di tempo, ma dei quali si parla poco. Quanto spesso vai a cena fuori in una settimana? Allora, adesso un paio di volte alla settimana soltanto, anche perché c'è crisi, quindi anche i miei compensi non possono coprire un'attività così frequente. Mentre negli anni 2015, insomma, diciamo dal 2012 al 2017 ne facevo 200-250. Che vuol dire praticamente cenare i tre quarti dell'anno fuori. E ho anche, non so, una striscia di uscite a cena lunghissima che mi pare sia 39. 39 sere di fila o pasti di fila? Sere di fila. Sere di fila. Parliamo tipicamente di cene. Cene, sì, perché spesso a mezzogiorno i ristoranti di Milano hanno un menage diverso. Sì, sì. Però a cena il lettore sceglie di più, mentre a pranzo va nel posto più vicino all'ufficio, vicino a casa. È più un milanese al business lunch, ha quel tipo di attitudine, invece la cena va a un servizio particolare. A volte anche dei piatti non ci sono in menù. Anche dei piatti diversi. Non potendo andare tutte e due le volte, per ragioni economiche, scelgo la cena. Ed è sempre tipicamente quando vai a cena fuori, c'è sempre l'intenzione di farne eventualmente un articolo, di fare un oggetto di giudizio? O ci sono delle volte in cui hai dei ristoranti così di casa, che è solo il piacere di cenare fuori, anche la volontà di non curarti di quello che stai mangiando? O sei condizionato? Sono un po' condizionato, anche perché devo ottimizzare le spese. Quindi se esco in un ristorante, mi scappa la recensione. Ma che scappa stasera. Però sì, comunque succede anche che io esca per soltanto il piacere di uscire. E questo mi succede soprattutto quando non sono nella città in cui opero prevalentemente. Che è Milano. Che è Milano. E quindi poi alla fine ordino cose anche molto banali, ma le più confortevoli possibili, cioè quelle che non mi sorprenderanno mai, perché così mi rilasso finalmente. Proviamo ad entrare in un ristorante, quindi andiamo a cena insieme, stai giudicando, devi recensire, è quel giorno della settimana. Cosa noti in primis? Su cosa va il tuo occhio allenato anche dopo 30 anni? Hai dei riferimenti, dei tagli che capti in primis perché sai che sono rilevanti? Cioè c'hai fatto l'abitudine, il tuo parametro. Ma è come un'indagine, no? Con tanti indizi da raccogliere e poi da mettere in un gran candirone per tirare fuori la morale di quel locale. Quindi tutto è utile. Persino la vetrina del ristorante, il come viene accolto, come ti viene accompagnato al tavolo. Insomma, anche la prima parte, molto prima di cominciare a mangiare, è fondamentale perché rivela il carattere di quel ristorante nel bene o nel meno bene. Poi appunto c'è il menu, ma anche il menu bisogna vedere com'è dal punto di vista grafico, se ha il QR code, si dice così, no? Sì, che è un aspetto negativo immagino. Io lo odio perché avendo una certa età... Io lo trovo molto poco piacevole a cena vedere, non so, con 4-5 persone tutti commensali con il telefono in mano. È anche brutto. Condividere il menu, la carta sarà che un po' è nella nostra prassi. Ha velocizzato, per carità c'è uno spreco, c'è uno dei benefici per i ristoranti, mi rendo conto. Però anche con una ragazza, probabilmente, a cena, io faccio fatica, mi sembra un momento di distacco, in cui non c'è cura dell'altro. Sì, è verissimo. E poi, vabbè, tutto, il servizio, come sono vestiti i camerieri, com'è il bagno, perché se il bagno è sporco, quello potrebbe essere un sintomo di scarsa cura. Insomma, tutto. Poi c'è anche il cibo, che è ovviamente una parte rilevante. Sì, sì, mi fa venire in mente un aneddoto. Io ho fatto per due mesi il cameriere, nella mia vita, in un ristorante qui vicino, che non nomineremo, perché è stata una buona, per me è comunque una bella esperienza. Mi ricordo una sera a cena, c'era la sala quasi vuota, e adesso è arrivata questa coppia, che è molto distinta, lui va in bagno e le croto lo scaldabagno in testa. È stato un episodio fuori dalla norma. Io ho pensato al bagno, quando ho scelto il bagno ho detto, penso in quella circostanza l'episodio è stato anche dannoso fisicamente. Sicuramente non sarebbe stata una buona valutazione, o forse una buona cena, credo siano scappati. Hai degli altri campanelli d'allarme? Qualcosa che in qualche modo, degli atteggiamenti negativi, degli aspetti peculiari, che ormai conosci, che per te sono come anche un po' il QR code, ma altri che hanno a che fare col servizio, con i piatti, con l'attitudine che noti subito? Beh, tanto sì, il menù, anche il contenuto del menù, è un segnale. Quindi se ha dei piatti che si ritrovano in tantissimi altri ristoranti, tipo l'uovo poché, che ce l'hanno tutti praticamente, allora vuol dire che il cuoco è orientato su una linea molto convenzionale, è un po' copiativa, quindi non è una cosa positiva. Poi i prezzi sono fondamentali, nessun prodotto si giudica a prescindere dal suo costo. Ogni dettaglio, c'è la tovaglia, non c'è la tovaglia, se non c'è la tovaglia c'è almeno un piattino da appoggiare il pane. Insomma... Prendi appunti durante la cena? Li prendo mentalmente. Se in tutto non hai la tua memoria rispetto a... Una volta andavo in bagno a scrivere su un taccuino le cose che mi sembravano importanti, però poi ho pensato, ma pensano che ho un problema con la prostata. Ci sono andato sette volte. Allora adesso... Se fossi andato in quel ristorante avresti rischiato più o più volte. Tengo memoria, tanto ormai è subentrato il mestiere col tempo. Anche immagino delle routine, in qualche modo, dei meccanismi che sono tuoi, peculiari, delle cose che rilevi, che sono funzionali. Nel novero delle cose importanti per la critica, cosa è più importante? Ancora il gusto o... È chiaro che mangio sia un pacchetto, in fin di conto il ristorante si giudica, me lo dicevi anche tu forse prima, però il gusto è ancora l'aspetto più rilevante per mangiare bene, comunque può fare in qualche modo attenuare alcuni aspetti che hanno stati negativi sul servizio, sull'estetica, su altre... Sì, anche se mangiando bene in un ristorante dove vieni trattato male, insomma è l'esperienza negativa. Poi c'è una vecchia espressione della democrazia cristiana, che purtroppo esiste ancora, ma insomma ai tempi era interpretata... Sì, si è evoluta di Renziana Forno. Comunque, c'erano questi geni della parola ai tempi, tra cui Andreotti, questa forse però invece è di Aldo Moro, non sono sicuro. Comunque lui diceva geometrie variabili, dicevano, e il ristorante è soggetto a geometrie variabili, cosa vuol dire? Che ogni ristorante ha un suo punto di equilibrio, quindi un ristorante magari si mangia così così, ma ha una vista meravigliosa, beh, allora ha un suo perché, oppure si mangia benissimo, però costa troppo, beh, allora può essere una cosa negativa. Insomma, ogni ristorante ha una sua interpretazione e il critico gastronomico dovrebbe essere un po' psicologo nel capire cos'è e cosa vuole essere quel ristorante per poter trasferire questa informazione a chi ti legge e a chi poi sceglierà di uscire in un posto, andando in un posto o in un altro. Anche un po' l'identità del ristorante come si configura. Esatto, l'identità del ristorante è il suo snodo principale, quindi, non so, per me è un posto sul mare, con una vista, sul golf, anche se non si mangia benissimo, ma chi se ne importa, non gli importa neanche tantissimo, probabilmente il ristoratore, però sa che può contare su quella carta lì. C'è un'esperienza che aggiuntiva in qualche modo può colmare delle lacune altrove. Ma rispetto invece a quando tendenzialmente ti rendi conto, a che punto della cena arrivi a un giudizio tendenzialmente, quante portate ordini e quante sono sufficienti per capire che bene o male il ristorante ha quel tipo, o quanto basta mediamente? Ma allora, io non vado mai da solo intanto, perché se no potrei essere individuato un uomo solo che va al ristorante a Milano, a Londra non lo so, magari sarebbe usuale, ma a Milano... Forse sì. Quindi mi porto sempre dietro uno, due, fino a tre persone, mai più di tre, perché un tavolo da cinque già è ingombrante nella routine di un ristorante medio e potrebbe mettere in crisi anche quello. Può evitare di creare problemi a monte al ristorante. Esatto, perché se no non posso valutare. Assolutamente. Quindi assaggio poi i piatti di tutti, quindi assaggio sempre almeno sette o otto portate, che sono già un... Un buon parametro. Eh, e quando capisco, beh, se fa tutto schifo... Ciao. Invece quando sembra tutto buono, magari cadono su le tre portate successive, quindi lì va analizzato in profondità il ristorante. O sul conto mi viene in mente. O anche sul conto se è eccessivo, però io comunque prima di andare in un ristorante mi studio il menù e vedo cosa più o meno ha un senso ordinare, perché se in un ristorante di pesce io ordino l'unico piatto di carne, non ha tanto senso, perché magari non lo fanno benissimo, la loro specialità è un'altra, quindi bisogna bilanciare. Perché non interessa neanche andare a fare le pulci dove magari non c'è, non è un punto forte in un ristorante, o come l'approccio un po'. No, perché è come il discorso che facevamo prima, io devo capire qual è, cos'è l'identità di quel ristorante. Quindi è inutile metterli in difficoltà ordinando l'unica pietanza che hanno messo lì per chi ha sbagliato l'indirizzo. Piuttosto la nota, nel menù c'è quel piatto lì e non c'entra nulla con l'identità del ristorante. C'è una frase che credo sia di Murigno, ma la ricordo rispetto a Federico Buffa, Buffa racconta, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Mi viene in mente, traslando la cucina, probabilmente chi sa solo di cucina non sa niente di cucina. Dove altro vai a tingere e dove cogli che c'è un valore aggiunto in un menù, in un racconto di un ristorante, rispetto a quello che evoca, non soltanto in funzione del cibo, ma quello che è la visione dello chef o di chi si prende cura del cliente. Allora, intanto questa frase qua che ho scritto anch'io rifacendomi. Ah, meravigliosa. Funziona proprio per il critico, cioè quando io faccio lezione, mi capita di fare lezione a dei giovani che vogliono fare il critici, gli dico sempre, ma non... Mascherato? Mascherato, sento. Anche per ore. Ho fatto delle lezioni alle Yulm di otto ore con la maschera. Quindi anche in maschera più che su 39 giorni dicene di chi. L'orrore è quando tolgo la maschera perché ho la faccia rossa come un peperone. Comunque, chi vuol fare il critico gastronomico deve avere una cultura generale piuttosto elevata, quindi deve stare attento a tutto quello che accade nel mondo della cultura, ma anche dell'attualità. Deve leggere i giornali, deve andare al cinema, leggere libri, deve informarsi, cioè formare uno zoccolo duro di conoscenze che poi si possono usare per interpretare i ristoranti. Quindi è vero, chi sa solo di cucina non sa niente di cucina. E questo vale anche molto per i cuochi, per esempio, che non sarebbero buoni critici perché svolgono un lavoro completamente diverso e non hanno spesso questa struttura di base. Quindi è fondamentale avere un bagaglio di conoscenze per interpretare quella realtà. E questo ci difende anche dall'influenza delle mode. Assolutamente. Perché se no, qualunque cosa sia nuova o mai vista ci conquisterebbe, ci espugnerebbe. Invece noi dobbiamo fare un passo indietro e valutare se quella moda è una cosa cretina oppure se funziona. E quindi è fondamentale allargare il campo di conoscenze. Questo vale un po' per tutto. L'avevi ripescata anche tu dal calcio? No, io non so, si sente dire, insomma, e quindi non l'avevo pescata. Amorigno, che peraltro è il mio idolo perché sono interista. Ah, questo è un problema enorme. A questo punto del nostro interista dobbiamo tagliare tutto. Io sono giuventino, quindi si pone un enorme divario culturale. Ti ho sentito, ti si ascrive un'altra, invece, una diversa frase. Questa era un Amorigno, non credo l'abbia nominata lui, anche perché non so che cultura abbia di cucina, ma probabilmente potrebbe parlare anche lui di cucina, non ho problema, per me è parlato. Rispetto alla guida Michelin, ne hai parlato come della droga degli chef in questo momento. Io ho provato a cercare qualcosa sulla guida Michelin e di conseguenza le stelle Michelin attribuite a ristoranti e ristoratori. Come funziona la guida Michelin? Come nasce? Solo per mia cultura personale, per chi ci ascolta, per chi ci guarda, e poi che valore ha oggi effettivamente? Allora, nasce cent'anni fa come guida ai viaggiatori, perché la Michelin faceva le gomme, le fa tutt'ora, e quindi era un servizio a chi viaggia con le gomme della Michelin, ma anche senza le gomme della Michelin. Con gli anni, soprattutto negli ultimi dieci, quindici anni, c'è stata un'accelerazione per cui in realtà non è più neanche una guida, la si chiama guida ormai per convenzione, ma è una specie di grand jury che elargisce stelle, stelline, premi vari. E viene interpretata così anche dalla stampa, perché la Michelin ha circa 340 in Italia, 340 stellati, o forse qualcosa di più, 380, non mi ricordo, ma in realtà si parla solo di quelli e non degli altri 2000 ristoranti e i locali di cui si occupa la Michelin. Quelli non li cita mai nessuno, non hanno le stelle, quindi non esistono, in effetti sono una specie di alibi per poter chiamare guida una cosa che non è... E' come se creassero spartiacque tra gli stellati e i non stellati, anche se Michelin si cura anche dei non stellati, ma non attribuendo vi le stelle la stampa non se ne cura. Non se ne cura neanche la Michelin, non li nomina neanche, e tra l'altro sono le selezioni dei non stellati che sono vecchie, polverose, antiquate e fatte male. La stessa guida a Michelin è fatta male, ogni anno ci sono degli errori, ci sono schede che si ripetono per 10-15 anni esattamente con le stesse parole, insomma un prodotto editoriale mediocre al quale va dato invece un enorme seguito e una reputazione che non merita in virtù dell'abilità nel curare le pubbliche relazioni da parte della Michelin e anche in virtù di alcuni sponsor molto imponenti che reggono questo gioco che in realtà ha un connotato politico mi sento di dire in realtà molto basso politico è tutto un gioco se vogliamo dire economico e quali sono i criteri di Michelin loro non ce l'hanno mai detto non sappiamo nulla neanche non si sa come attribuiscono le stelle è tutto condensato in pochissime parole senza andare in profondità non sappiamo esattamente neanche quanti sono questi ispettori fantomatici non si sa niente e proprio per questo anche sommando i gravi errori che vengono commessi ogni anno la guida Michelin andrebbe ridimensionata ma non fa comodo nessuno ho scritto un libro per Mondadori dove appunto spiego queste cose che si intitola Dietro le stelle e proprio parlavo di del retroscena che è poco commendevole sinceramente evidentemente crea anche poi un discrimine nella percezione dei ristoranti e dei ristoratori per la credibilità che ha acquisito pubblicamente ma che non è come diciamo i ristoratori pendono dalle labbra della Michelin dell'omino della Michelin e fanno è veramente una droga per loro fanno carte false pur di avere questo riconoscimento e se non l'ottengono vanno in crisi ora ammettiamo che la cucina sia arte non lo è sempre ma insomma forse non lo è mai non lo so non mi interessa però in nessun campo della creatività umana si vive in funzione di un premio se arriva il premio bene ma diciamo la genesi delle opere ha una struttura molto più radicata e profonda nel singolo artista qui invece vivono per avere quel premio al punto che Mauro Uliassi che è marchigiano di Senigallia esatto ha dichiarato dopo aver conquistato finalmente la terza stella qualche anno fa ha dichiarato al Corriere della Sera se non l'avessi ottenuta avrei mollato tutto quindi è chiaro che c'è una follia una vera e propria dipendenza nei confronti di un premio che poi è le magagne che illustravo prima insomma non è una bella storia questo evidentemente non lo è fa piacere anche cogliere da questa prospettiva rispetto a quello che da la cultura di massa mi ci riconosco nella misura in cui non ho mai approfondito così tanto il mondo della critica gastronomica e della cucina nella fattispecie ci fornisce quindi è uno spaccato molto interessante abbiamo parlato di ristoranti e ristoratori quindi entri un po' nel merito di alcuni ristoranti i tre migliori le tre migliori esperienze e le tre peggiori di sempre di Valerio Massimo dunque sui tre migliori mi astengo perché in realtà noi facciamo una fotografia a Polaroid di un panorama in movimento quindi in realtà io focalizzo quella serata però parlo di esperienze non di ristoranti quindi le tre migliori però non vorrei fare dei nomi in positivo perché magari adesso è cambiato tutto capito infatti le recensioni dovrebbero avere la data di scadenza un servizio retto da un gentiluomo poi invece lo sostituiscono con un brutto il giorno dopo e ti arrivano gli insulti quindi l'esperienza peggiore che ho fatto nella mia vita è stata in un ristorante che adesso non c'è più tra l'altro non lontano da qua in che zona? Conca del Naviglio da quelle parti lì certo e mi non so perché ordinai la doppia tartare di manzo e branzino carne e pesce sì ed erano due dischi uno di carne uno di pesce uno sopra l'altro e in mezzo una salsina e ora la salsina io non ho mai mangiato il topo marcia ma penso che abbia quel sapore lì ok e poi carne e pesce insomma crude già difficile velleitario anche in partenza sì esatto ecco il problema è che quella sera c'era c'eravamo solo noi io e mia moglie a cena in questo ristorante e la cucina era vista ma in quel caso eravamo noi a vista rispetto alla cucina perché i vetri non avevano niente da fare perché non c'erano clienti quindi ci guardavano e io non riuscivo a mandare questa schifezza che era una roba mortale e per fortuna mia moglie ha intuito la sofferenza e con un gesto repentino ha preso quel che rimaneva di questa doppia polpetta me l'ha ficcata in tasca nella tasca della giacca lì avresti dovuto ricorrere all'agendina in bagno devo prendere gli appunti dovevo portarmi il piatto esatto e vabbè la giacca poi l'abbiamo bruciata dentro un pentacolo non dei riti però loro non si sono accorti quindi hanno anche pensato che l'avessi gradita molto perché l'avevo mangiata in un battibaleno al punto che temevo che arrivassi il cameriere a dirmi ma vuole il bis in quel caso mi sarei ucciso poi hanno trovato la recensione l'hai recensito l'ho recensito e ne ho parlato malissimo evidentemente non hanno mai però scoperto non ti hanno mai associato penso no perché avevo mangiato così rapidamente quel piatto grazie alla giocata ma è mai capitato tornando ancora sulla maschera che dico ci fosse una ti abbiano scoperto per questo evidentemente non è accaduto però c'è stata una sensazione che tu l'abbia percepita in che ristorante magari di essere osservato in modo particolare di aver captato che c'era un'attenzione ai tuoi confronti dovuta no direi di no anche perché io appunto sto con un profilo molto basso sto attento a non parlare troppo con i camerieri insomma poi ho anche una struttura fisica abbastanza anonima non certo cioè passo facilmente inosservato quindi probabilmente se Giacomo Porretti facesse il critico gastronomico sarebbe più rilevabile sì oppure se fossi alto due metri esattamente esattamente c'è una categoria di ristoranti che non ti sta un po' sulle balle che non frequenti a priori che magari sono ristoranti di una cucina etnica di un certo tipo che non provi perché non ti piacciono quindi li hai esclusi a Monte o magari ristoranti che puntano troppo sull'intrattenimento a Milano ce ne sono tanti che poi è tutta fuffa no perché anche quelli hanno il baricentro l'identità di cui parlavamo prima se puntano molto su quello è giusto che abbiano un riconoscimento anche pur nei limiti che quindi non so Spirit de Milan mi pare che si chiama così non si mangia tanto bene però è un posto bellissimo dove si va con piacere per il locale quando è estate o per gli spettacoli quindi ogni locale ha un suo senso oppure non ce l'ha ecco in quel caso viene stroncato ma vale la pena provarlo esatto hai amici ristoratori? no nessuno evidentemente no c'era qualche vecchio amico ristoratore dei miei genitori ma ormai sono passati tanti anni e non sono più in attività diciamo e sempre diontologicamente in fin dei conti è meglio che tu non abbia amici ristoratori certo è opportuno è il motivo per cui io non leggo con nessuno anche quando mi scrivono in privato cerco di dare una sensazione di disagio perché non voglio accorciare troppo le distanze beh credo elevi molto la 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 credibilità del tuo lavoro e del del modo di di percepirlo e di di mantenere di dare valore anche quello che puoi dare al lettore che non è da poco perché immagino comunque ci siano colleghi che magari sono un po' più che mirano più al rapporto piuttosto che alla la credibilità con il lettore e quello è vanno col cartello che hanno scritto la pestata esatto per cui lavoro conferenza stampa io scrivo per buonasera scrivo per parliamo un po' di ristoratori perché Milano in fin dei conti ha tanti grandi grandi chef di conseguenza ristoratori il primo non è milanese ma so che ne hai parlato e l'hai provato Osteria Francescana Massimo Bottura che ne pensi che ristorante è lui che chef è allora anche lì sospendo il giudizio sulla cucina perché non ci vado da troppo tempo lui io non giudico ovviamente le persone ma le loro opere secondo me è troppo compreso nel proprio io e nel personaggio che si è costruito quindi quando lo vedi alla tv parla solo di quello che fa lui di quello che ha fatto dei progetti che ha e non è capace di uscire da questa specie di gabbia nella quale ci si è ficcato da sola un super ego enorme ha anche una teatralità che a me infastidisce leggermente con questa gestualità le dita qua quella vocina insomma come personaggio pubblico preferirei si concentrasse di più sulla cucina come cuoco è senz'altro un genio adesso non so gli ultimi menu come sono ma sono sicuro che sono di altissimo livello ha meritato comunque i risultati poi alcune uscite hanno deviato un po' dal focus sulla cucina poi sai quei risultati sono anche lì tutti da avagliare in senso critico perché la 50 best che lui ha vinto uno o due volte non lo so è in realtà una classifica che non ha alcun fondamento perché in tutto il mondo devono votare i ristoranti che stanno magari dall'altra parte del pianeta li funzionano molto le relazioni pubbliche gli sponsor che ti porti appresso insomma è tutto un po' una fiction è una fiction mi viene in mente ma solo perché ne abbiamo parlato prima di calcio un po' come il pallone d'oro ecco come il pallone d'oro ma peggio peggio benissimo molto bene io che contezza di france football di quel mondo lì benissimo Bartolini che è il più stellato d'Italia invece che a Milano l'hai provato che chef è ho provato mi pare molto bravo è una persona molto seria è molto quadrato è il contrario di Bottura che è genio in sorgolatezza Bartolini è un uomo molto concentrato sul proprio lavoro e non mi dispiace il fatto che si mostri poco in tv che faccia una vita sociale un po' più compressa restiamo un attimo con il novelo degli chef a proposito di chi in tv si è mostrato parecchio forse negli anni precedenti Carlo Cracco ma io con Cracco ho parlato mi pare due volte al telefono perché poi appunto evito i rapporti diretti e mi è sembrato sempre molto civile dopodiché lo posso giudicare soltanto come interprete televisivo come protagonista di spettacoli televisivi all'inizio era secondo me insopportabile con quella voce da un po' stridula con la quale sgridava Masterchef i concorrenti e ho visto che si è molto ammorbidito forse è più se stesso adesso ed è anche abile l'ho visto fare una scenetta con come si chiama forse Luigi Fabio De Luigi Fabio De Luigi il programma su una rete che non possiamo nominare perché ci sono no non è vero possiamo nominare però in video Diners Club credo si chiamasse dove cucinavano con i vipac erano tutti lì sì ma l'ho visto anche in una scenetta dove De Luigi fa Massari ah ok Interprete Massari altro personaggio non banale sì tu non c'è anche pasticceria sì anche certo anzi ho appena assaggiato duemila panettoni di Milano e ho preso quattro chili tre e mezzo quattro ne valsa la pena però beh sì è stato divertente oltretutto il livello è aumentato si è elevato enormemente in questi ultimi anni quindi i panettoni sono quasi tutti e buonissimi di Borghese invece cosa pensi della sua cucina anche lui ha un ristorante a Milano non sono mai stato nel suo ristorante come conduttore va benissimo funziona tantissimo ogni tanto in qualche intervista esce con delle affermazioni che si potrebbe risparmiare ma comunque va bene insomma però in qualche modo stiamo nominando che il ruolo dello chef sia diventato di massa quindi appartengo ormai anche all'intrattenimento che abbia funzionato come profilo commerciale e televisivo e in dubbio abbiamo nominato Cracco Borghese avremmo potuto nominare Barbieri e Cannavacciuolo non li ho nominati perché chiaramente appartengono a una ristorazione che non è milanese però potremmo ugualmente non trovi che in qualche modo ormai il giudizio sia sempre viziato dalla componente caratteriale e che poi in qualche modo quando si assaggia in un ristorante di questi chef l'ego del ristoratore dello chef superi quasi la dimensione del pasto sì sì certo siamo così bombardati da queste immagini di super chef che diventa difficile giudicarli mi ricordo un mio collega non tanti anni fa che mi disse beh io non ho trovato molto buono questo piatto di uno chef famoso però se l'ha fatto vuol dire che va bene dico ma allora non fare più il critico e peraltro Cannavacciolo Barbieri e Locatelli li ho incontrati sul set di MasterChef è una puntata iconica dovevano rifare il piatto sulla base di un tuo articolo sì solo che poi lo chef residente che aveva confezionato il piatto a casa di mia suocera ha fatto poi è una cosa completamente diversa per la tv quindi la mia descrizione non c'entrava più niente questo un dettaglio comunque sono molto buffi molto scherzosi persone piacevoli sì sono come Locatelli e Cannavacciolo sono come dei ragazzini veramente si davano le pacche in testa Barbieri invece più riflessivo però comunque è stata una giornata divertente com'è il set di MasterChef come dinamiche quanto tempo ci vuole da che iniziano a cucinare a quanto tempo che esperienza è stata è tutto come come in tv insomma hanno pochissimo tempo per cucinare hanno questa fretta orgasmica che li attanaglia però assaggiano molto dopo no abbiamo assaggiato quasi subito comunque ci sono tante pause in cui non si fa niente poi appunto alla fine io quello che è andato in scena è una minima parte di quello che ho detto ovviamente c'è tutto un lavoro di di cucitura e taglio che rende quello spettacolo molto ben confezionato perché è un format vincente esatto questo è inevitabile se vogliamo anche uno forse ora è arrivato anche un po' maturo però chiaramente è stato un paradigma televisivo per diverso tempo e probabilmente anche per quanto mi riguarda come mio gusto meglio poi confezionato bene anche da chi la produce negli anni penso a Magnole all'inizio con Giorgio Gori meglio rispetto ad altri programmi che sono un po' più penso anche quello che fa Cannavacciuolo in cui va nelle cucine a giudicare mi sembra un po' finto quello so che è finto perché ho intervistato una volta uno dei ristoranti che erano stati visitati è un po' finto? beh dice sì cioè tutta la dinamica drammaturgica la lotta tra figlio e madre c'era questo era un posto qua di Milano ok e quella dice ce l'hanno appiccicata loro ce l'hanno scritta loro non erano affatto in contrasto e poi c'erano gli scarafoni scarafoni che viaggiavano sulla tovaglia e la signora ha detto no assolutamente no ma anche perché è impossibile gli scarafaggi si nascondono non salgono sulle tovaglie se c'è tanta gente quindi anche quello era stato applicato lei ha detto io ho detto non fatelo e l'ho di nascosto invece l'hanno fatto in cambio di un restyling del locale questo è un po' uno scoop per certi vari si prova fa specie perché è poi incredibile anche che un'attività commerciale si presti o comunque ha una dinamica televisiva di conseguenza certi pregi e difetti di quel foro si però appunto la tv è diventata così pervasiva per cui i ristoranti che partecipano a quattro ristoranti di borghese hanno liste di attesa lunghissime per le prenotazioni solo il fatto di comparire in tv è una pubblicità enorme si una pubblicità enorme anche se poi magari ne escono contusi delle pagelle si si certo la visibilità forse vale anche l'idea di esporsi a difetti importanti perché poi l'idea di provarlo di averlo visto in tv purtroppo nel pubblico rileva tu li guardi questi programmi ma adesso mi hanno un po' si ripetono sempre lo stesso modo mi documento e quindi li guardo e quattro ristoranti secondo me era anche divertente all'inizio anche per la dinamica psicologica dalla quale si evince che i ristoratori si odiano mortalmente ma fa l'incredibile sì sì e poi perché quattro ristoranti è l'unico format studiato apposta per la ristorazione mentre Masterchef non è diverso da qualunque talent sia una gara una gara assolutamente e e quindi quello all'inizio adesso è sempre uguale su Milano magari offre anche degli spunti quattro ristoranti per provare dei ristoranti o comunque per provare recensirli o magari a vedere se corrisponde poi all'immagine che offre sì anche se è capitato che gli autori chiedessero a me ma cosa mi consigli quindi non lo so era il processo inverso esatto due curiosità prima di passare al momento finale domande ubriache anche se il tuo gintone è rimasto integro cucini sai cucinare hai passione per qualche piatto da realizzare a casa rispetto all'attività della cucina allora io quando ero single ti parlo degli anni 30 cucinavo molto spesso per intortare le ragazze l'unico scopo era quello le invitavo a cena poi però ho scoperto che si ricordavano dei piatti che avevano mangiato ma non del cuoco cioè di me che gli avevo fatti e quindi non funzionava con una ragazza è un tantino problematica esatto ho mangiato una melanzana parmigiana buonissima da coso nome vado con la buia esatto ti prego allora da lì ho incominciato a invitarle fuori e non ho più smesso quindi cucino pochissimo anche perché mia moglie cucina molto e sbatte tutto via perché io non mangio niente quando sono a casa ma sei critico anche a casa? no no semplicemente salto il pasto perché diventerei 200 kg questo è un tema e poi mi chiedevo provi anche tendenzialmente street food non lo so penso a faccio dei nomi poi decidi tu se rispondermi o meno penso c'hanno tanti che poi sono legati a delle mode l'antico vinaio ora c'è con Molica Osenza che poi è arrivato a Milano che poi sono legati anche a dei fenomeni social vai a provare anche questi sì sì ho una rubrica proprio dove provo street food i panini queste cose e quindi provo anche quelle certo l'antico vinaio mi sono maledetto perché ho fatto non so un'ora di cosa non è banale però comunque sì sì provo tutto tutto quello che si mangia io cerco di prendere io ho un posto del cuore non so magari lo tagliamo però per me resta per l'esperienza anche molto milanese il polo di Giannasi ah beh sei legato anche tu beh sì intanto esiste da sempre quindi prima che facessi critica poi il signor Giannasi che adesso non ricordo come si chiama Dolindo ecco fa anche beneficenza un cuore d'oro certo la qualità del polo ecco è un polo però sì però insomma è un'istituzione sono contento che sia condiviso se non l'altro mi ha trovato un compromesso su questo hai provato anche qualcosa di briatore crazy pizza crazy pizza ci sono stato un posto felliniano un po' folle con donne truccatissime con labbra gigantesche e scollature abissali talvolta operatrici del piacere però è divertente comunque è stato divertente poi fanno sta roba con i fazzoletti la pizza insomma un posto dove uno va come andare al circo la pizza non è neanche cattiva comunque è commestibile prezzi sono altini ma adesso stanno diventando altissimi ovunque in pizzeria e se non prendi delle farciture stellari mi pare che la margherita stia sui 18 euro diciamo che comunque rispetto all'esperienza al contesto ha una sua ragione d'essere è divertente alla fine mi sono divertito non è un posto dove andare tutti i giorni se no mi interessa no certamente sarebbe anche un po' particolare pericoloso forse alcuna tentazione per gli obblighi coniugami però mi interessa perché l'esperienza in questo caso che comunque evocare con la pizza e le scamotage in questo caso imprenditoriali di libriatore che va a integrare un prezzo che chiaramente non sarebbe giustificabile altrove c'è una pizzeria qua sotto e ci facesse la margherita 18 euro li diremmo salvatore ammettendo insieme sei impazzito abbiamo parlato di molto sono contento perché un quadro più chiaro di quello che fai ho un'ultima curiosità legata al tuo lavoro chiaramente vivere di critica e di giornalismo impone legami con editori quanto indipendentemente dal tuo rapporto attuale quanto costa un editore una recensione quanto costa in generale un articolo di una recensione in funzione di quello che fai allora io vivo da privilegiato perché facendo questo lavoro da tanto ho anche un editore che mi protegge però diciamo che in linea di massima non viene pagato nessuno purtroppo e di fatti i recensori vanno a provare i ristoranti durante il vernissaggio cioè le inaugurazioni e provando una cosa che non ha niente a che vedere con la routine del ristorante però sono costretti perché non hanno un rimborso spese vengono pagati proprio due lire ci sono delle eccezioni ovviamente faccio una che è dissapore.com che so con precisione che riconosce sia un rimborso spese al recensore sia un compenso ma in generale questo non accade quindi alla fine è fatale che chi è deputato a fare le recensioni scomporti in maniera poco etica perché è la linea della sopravvivenza certo anche gli articoli clickbait sono una conseguenza del fatto che c'è un poco mercato quindi si scrive le robe anche in modo faccio una domanda un po' in zigina credo si dica a Milano nell'ordine delle per una recensione non oggi ma dico magari negli anni 90 il mercato era prima negli anni 2000 precedenza siamo nell'ordine di che cifra io posso dirti che gli articoli su quotidiani nazionali vengono pagati da 8 a 20-30 euro l'orde da 8 a 20-30 euro e non è che c'è un supplemento perché hai speso dei soldi nel ristorante esatto mi chiedevo questo non c'è un rimborso no in generale nei giornali non c'è questo rimborso io appunto la mia situazione è un po' privilegiata ma nel complesso questo mestiere non si può fare in maniera etica perché non c'è la protezione economica degli editori è il timore che possa scomparire chiaramente scomparirà senz'altro tanto adesso con l'intelligenza artificiale faranno fuori tutti al tuo posto ci sarà un computerino un ologramma che ti intervisterà e ti farà delle domande che saranno io non ci saranno esatto intervisterà il tuo ologramma solo per compiacerti e volerti bene ti dirà che esiste ancora questo lavoro anche se lo sta facendo un'altra persona siamo a un momento peculiare del nostro podcast le domande ubriache abbiamo un minuto ti faccio delle domande in tam tam che hanno a che fare un po' con te un minuto in tutto un minuto in tutto quindi un timer che scorre molto molto rapido nelle risposte domande ubriache un minuto quale sarebbe il tuo ultimo pasto nel braccio della morte formaggio e patatine fritte fantastico pandoro o panettone panettone chi vince lo scudetto l'inter ah questa no Valerio un cibo che non ti piace gli insetti spero che non passino mai questo non credo con che personaggio noto andresti volentieri a cena con Giorgio Gabber ma è morto sarebbe stato bello il peggior giudice di Masterchef di sempre in quel contesto non lo so perché non l'ho seguito così tanto beh non mi piaceva tanto Cracco ok pro contro l'eutanasia sono favorevole un tuo hobby segreto vado in palestra lo chef più sopravvalutato d'Italia ah non lo so la mancia più alta che mi ha lasciato ma 20-30 euro non lascio quasi mai mance enormi insomma per non essere riconosciuto deontologia il piatto che ti riesce meglio a cucinare di melanzana e di parmigena che avevi citato prima cosa non saresti mai disposto a vendere la mia libertà questo sul gong la tua libertà che credo poi sia il manifesto di questa chiacchiera che abbiamo fatto perché la deontologia l'integrità e il rispetto del lettore mi è arrivata molto come linea sono valori ormai in disuso ma io sono anziano quindi me li porto dietro la libertà anche di poter giudicare di poter parlare senza vincoli che è un privilegio noi chiudiamo ogni puntata qui in gin toneria abbiamo fatto un'eccezione all'inizio rispetto alla stanza abbiamo deviato abbiamo parlato un po' del rapporto del cibo però le puntate le chiudiamo tutte allo stesso modo immagina che sia dicembre del 2028 tra cinque anni siamo ancora qui di fronte a bere un gin tonic ti troverò con la maschera o senza dove sarai e cosa starai facendo in quel momento della tua vita tra quanto? cinque anni dicembre 2028 cinque anni temo ancora con la maschera però potrei anche toglierla prima perché incomincio ad esserne un po' stufo in quel caso farei un altro mestiere però finché faccio questo mestiere cosa ti piacerebbe fare? tolta la maschera ma scrivere di più anche di altri temi perché il food è un po' stufato secondo me un po' tutti questo beh c'è anche un'abbondanza di voci in capitolo sì troppo allora mi piacerebbe non so scrivere dei film delle commedie delle cose quindi tornare al ragazzo al Valerio quello a fare l'attore esatto ricongiungermi al me stesso di allora e si ritorna sempre alla stanza in qualche modo questo è il filo rosso la rincomposition che si chiude qui io sono molto contento di averti conosciuto anche questa è una rincomposition perché era una puntata sul file dell'inizio di Gintoveria prima ancora che esistesse e ce lo siamo goduto oggi forse ora berrai il Gintone chiuso in bagno senza guardarci senza dircelo in ogni caso abbiamo bevuto quel buon Albatonic sono stato molto contento l'ultima puntata di quest'anno ma noi torniamo nel 2024 quindi amici attendeteci grazie mille Valerio grazie a voi grazie mi sono divertito molto un piacere un privilegio davvero ciao amici questa è la Gintoveria Podcast un podcast tutto da un sorso ciao